Dobbiamo denunciare atti vandalici nei confronti dell'installazione presepiale in piazza Duomo. Con queste parole il presidente dell'Associazione Artisti del Borgo, Alberto Russo, descriveva ieri su Facebook quanto accaduto nella notte all'installazione in piazza del Duomo. Il presepe, lo ricordiamo, era stato al centro di accese polemiche per la forza delle immagini proposte. Sotto una tenda blu della protezione civile è infatti raffigurata una scultura di un bambin Gesù denutrito, circondato da fotografie e scatti crudi, tutti incentrati sul tema della povertà e della sofferenza. Duro il commento degli artisti del Borgo all'atto vandalico. Consapevoli dell'enorme riscontro che ha avuto il presepe, siamo tuttavia costernati nel rilevare che ignoti quanto stupidi individui, indegni cittadini di Carrara, entrando nella tenda, hanno messo a suo quadro l'interno. I vandali, si legge nella pagina Facebook degli artisti del Borgo, oltre a devastare l'installazione, hanno posizionato all'interno della tenda un sacchetto di plastica con feci di cane. In questo modo, concludono gli artisti del Borgo, è stata offesa non l'opera di artisti o di un'associazione, ma la sacralità dell'idea rappresentata.